salve sono salvatore caputo attualmente direttore del coro dell'opera di bordeaux sono stato precedentemente per cinque anni direttore del coro del teatro di san carlo di napoli e per cinque anni direttore del coro dell'opera di buenos aires il teatro colón secondo maestro del coro per cinque anni al teatro comunale di firenze e poi ho lavorato in vari teatri come il teatro di santiago di cile sarò presto all'opera di pechino faccio questo video in risposta a un messaggio del comitato nazionale dei lavoratori delle fondazioni per rispondere a tre domande non ho preparato niente perché voglio essere il più sincero possibile allora la legge 160 è a mio parere un grande errore perché costringerà inevitabilmente i teatri a trasformarsi in teatri di tradizione io sono d'accordo sul principio della parità di bilancio ma a condizione che uno lo stato prenda in carica tutti i debiti pregressi delle fondazioni e quindi dica adesso palla centro e da questo momento voi dovrete essere in bilancio in parità di bilancio due tutta quella generazione di manager e di sovrintendenti che hanno rovinato i teatri siano messi al bando e non si permetta loro di passare da un teatro all'altro dopo aver lasciato 30 40 50 milioni di euro di debiti nei vari teatri quello che voglio dire è anche l'opinione pubblica è il responsabile dei debiti dei teatri non sono i lavoratori che non hanno non prendono parte alle decisioni ma sono semplicemente le classi dirigenti e non si può sempre scaricare poi sugli ultimi la colpa delle responsabilità della classe dirigente quindi l'idea per me è quella di trasformare l'idea nefasta è quella di trasformare le fondazioni in teatri di tradizione obbligando poi i teatri stessi a chiudere perché non saranno in grado di mantenere il core orchestra e lasciare quindi teatri libri quelli che interessa a questo governo e anche a quelle che l'hanno preceduti avere i teatri liberi per trasformarli in grandi contenitori per degli eventi gestiti da società private e per ricreare quella cultura della compagnia di giro che sottopagando gli artisti naturalmente la maggior parte non saranno più neanche artisti italiani saranno presi artisti di paesi che sono disponibili poi a guadagnare praticamente niente pur di cantare o ballare o suonare in italia e quindi fare un guadagno privato nei vari teatri che si trovano in italia domanda siete sicuri che magari qualche sindacato intelligente non abbia già creato delle delle cooperative che gestiranno poi questi questi artisti domanda che lascio agli esperti quindi il disegno per me è quello di trasformare i teatri come cagliari genova bologna trieste quelli più a rischio che a rischio catania cagliari in teatri che non possono più avere le masse artistiche per averli poi liberi per utilizzarli poi per le compagnie di giro private che saranno poi gestiti dai soliti noti la seconda domanda era su italia la cultura qui neanche c'è da parlare l'italia è penultima in europa io credo veramente che ci sia un disegno concreto reale da parte delle classi dirigenti italiane di di rendere il popolo italiano il più ignorante possibile per poter poi gestirlo nella maniera più facile per poter poi tagliare tutti quei diritti che sono stati conquistati negli anni con la lotta i diritti sono stati la conseguenza della scolarizzazione degli italiani che hanno capito che era un diritto avere un determinato orario di lavoro avere delle ferie avere avere il diritto alla pensione più il livello culturale si abbassa più sarà facile per quei mentecatti che ci che ci governano controllarci grazie poi alle varie alle varie televisioni che loro hanno che posseggono sia private che pubbliche con la scelta dei giornalisti a loro più più vicini quindi lì è chiaro il discorso lei basta parlare di di numeri e vedere perché l'italia che ha il 60 per cento del patrimonio artistico mondiale dedica poi alla cultura dei fondi così esigui sugli obiettivi io credo che il primo obiettivo assoluto che un movimento un comitato nazionale debba debba ottenere è quello di pretendere che all'interno del consiglio di amministrazione di tutti i teatri sia presente un rappresentante dei lavoratori che controlli a tutti i contratti chiedo a voi se vi sembra normale che un maestro d'orchestra un direttore d'orchestra guadagni 6 7 mila euro per dirigere a vienna e 25 28 30 in qualche teatro italiano a me non sembra normale e quindi un lavoratore che controlli tutti i contratti che vengono fatti dal consiglio di amministrazione che abbia un controllo fair anche sulle ore straordinarie che vengono pagate a destra a sinistra a volte regalata a dei gruppi artistici magari più vicini alla direzione di turno rispetto ad altri e che controlli veramente il piano industriale che ogni sovrintendente debba presentare al suo insediamento cioè non vedremo faremo ma quando il sovrintendente viene insediato nel consiglio di amministrazione abbia l'obbligo di presentare un suo piano e che sia questo piano dettagliato nelle cifre e presentato al rappresentante dei lavoratori che abbia poi un voto reale all'interno del consiglio di amministrazione questo è il primo obiettivo fondamentale cioè mettere veramente i piedi nel piatto e controllare la spesa quotidiana che si fa perché io penso che lì poi verranno fuori tante sorprese l'obiettivo è poi veramente di qualificare continuamente le forze artistiche presenti nel teatro io nel mio piccolo qui a Bordeaux lo sto facendo io stesso faccio della formazione individuale ai miei artisti abbiamo professori di soffrologia professori del metodo Alexander e professori di canto faremo degli atelier di recitazione proprio per investire sulle nostre forze perché sono quelle di cui abbiamo bisogno sono il nostro capitale umano e che per noi è più importante del teatro stesso dell'edificio stesso e poi io credo che sia arrivato il momento in Italia di passare dal teatro di stagione dove si spendevano centinaia di migliaia di euro per delle scenografie stupende bellissime dei vari Zeffirelli Pizzi e compagnia Ugo Deano e compagnia per poi fare quell'opera una sola volta e buttare il materiale al macero a un teatro di semi repertorio che abbassi poi i prezzi dei biglietti sulle opere che vengono riproposte negli anni con gli stessi allestimenti e soprattutto poi con una politica culturale di forte scambio delle produzioni fa un teatro all'altro cosa che onestamente in Italia sta cominciando si sta cominciando a fare ma che dovrebbe essere molto più centralizzata e poi anche di di non lasciare i teatri liberi di programmarsi senza un coordinamento nazionale io stavo a San Carlo abbiamo avuto delle cose assurde negli anni dove il San Carlo programmava un'opera il teatro Verdi di Salerno che non è un teatro non è una fondazione ma che comunque si trova saranno 50 chilometri da da Napoli o qualcosa in più programmava la stessa opera due mesi prima o due mesi dopo cioè senza una sinergia del territorio che è veramente inaccettabile quindi un dialogo fra i vari teatri l'opera di Roma dovrà dialogare con Firenze con Bologna con Napoli con Bari con le altre fondazioni per ottenere una programmazione nazionale che sia coerente e poi un altro obiettivo è quello dell'unità cioè noi siamo stati veramente in un paese dove viene soppresso un corpo di ballo a Firenze viene soppresso il corpo di ballo a Verona il coro orchestra negli altri teatri canta e suonano come se non fosse successo niente non voglio ripetere qui le parole della famosa poesia di Brecht ma voi la conoscete meglio di me e quindi avrete capito qual è il riferimento cioè l'unità quando si tocca un corpo artistico di un teatro si fermi l'intero sistema produttivo italiano sia dei teatri di prosa sia del cinema sia della lirica e si difenda anche l'ultimo lavoratore che ultimo non è io faccio il maestro del coro ma senza i miei coordinatori il mio pianista il mio assistente la persona che apre la porta alla mattina o che lava il teatro o il tecnico che mette la luce o tutti coloro che lavorano nel teatro non abbiamo la possibilità e fare niente quindi uscire da questa mentalità l'orchestra abbandona il coro al suo destino e il coro abbandona il balletto al suo destino perché alla fine poi si farà tutto il destino delle famose orchestre della RAI io spero che questo comitato possa possa crescere e possa difendere l'opera italiana che detto fra di noi è molto apprezzata all'estero e già l'essere italiano ci dà un prestigio a volte anche superiore alle nostre stesse qualità un caro saluto a tutti voi tenete duro